Un nuovo centro di Alisi sta per sorgere a Castellaneta grazie all'intervento dell'ente ecclesiastico Miulli in collaborazione con Nefrocare, azienda leader nel settore dialitico, di concerto con l'amministrazione comunale e il governo regionale. La nuova struttura manderà in pensione il vecchio ambulatorio di Via Matercristi dopo 30 anni di onorato servizio ed è in costruzione nel terreno adiacente. Questa mattina si è svolta la cerimonia simbolica di posa e benedizione dell'opera con la partecipazione del Vescovo di Altamura Giovanni Ricchiuti che ha voluto incastonare nelle fondamenta una reliquia di San Nicola da Longobardi e del Vescovo di Castellaneta Claudio Magnago. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Castellaneta che ha favorito il nuovo investimento del Miulli nella città di Valentino. Il nuovo centro si sviluppa su una superficie di circa 700 metri quadri su un unico livello e sarà dotato dalle più moderne tecnologie in grado di garantire un edificio a energia quasi zero e soluzioni cliniche di livello europeo.